Parliamo di pallavolo femminile, la Floreale Pallavolo Perugia ha centrato la seconda vittoria stagionale nel derby casalingo contro la Ecomet Marciano. Ancora un istante e vedremo le fasi salienti di questo derby molto acceso che ha visto la vittoria delle padrone di casa, le ragazze della Floreale Pallavolo Perugia. Prestazione convincente della Floreale Pallavolo Perugia che tra le mura amiche non lascia scampo alle cugine della Ecomet, sconfitte per 3-7 a 0. Le ragazze di coach Braghi e Roli centrano così la seconda vittoria stagionale nel derby casalingo, un successo meritato e ottenuto con un'ottima prestazione. Per l'occasione il tecnico perugino apporta alcune variazioni al sestetto titolare con pani opposta a Fiorini a schiacciare. Nel primo parziale la Floreale parte come al solito a rilento con falli ed errori che tengono in equilibrio il match 7-7. Per fortuna c'è Pani che ringrazia per la fiducia accordata segnalandosi subito in zona punto. Poi ci pensa Capitan Sfascia a cambiare le sorti del parziale. Sul 20-10 le marcianesi ci mettono del loro e il vantaggio bianco-rosso è già in cantiere, 25-11. Alla ripresa la musica non cambia, si gioca punto a punto e si arriva fino al 14 pari. Chi si attende la fuga della Ecomat però rimane deluso perché a salire in cattedra è Erika Fiorini che trascina le compagne al raddoppio 25-20. Nel terzo set l'equilibrio dura ancora più a lungo. Romis ordina lungo la fuga 18-13 ma le ospiti resistono e addirittura ribaltano 18-19. Si arriva fino al 22-22 poi ci pensa ancora una volta Fiorini e il 3-0 è servito 25-20. Ora dalla Floreale ci si attende qualcosa di più anche lontano dalle mura amiche. E dalla pallavolo ci spostiamo al calcio. Anche la Grifo ritrova il successo in casa contro il Due Monti al termine di una gara che ha visto le ragazze di Valentina Belia condurre il gioco. Con uno schiacciante 8-0 l'AFD Grifo Perugia ritrova il successo in casa contro il Due Monti. Per l'occasione il tecnico perugino Valentina Belia aveva schierato la formazione migliore seppur con un'inedita divisa giallo-verde e ha portato un'interessante variazione al modulo offensivo con Narcisi arretrata nel ruolo di rifinitore alle spalle di Fiorucci Giulia e Marinelli con un più dinamico 4-3-1-2. Al sesto proprio Marinelli ha già sui piedi l'occasione per il vantaggio ma il suo destro si stampa sul palo. Una manciata di minuti e la stessa numero 11 Biancorossa è ancora in area di rigore dopo un bel fraseggio con Giulia Fiorucci. Il tiro però finisce fuori di poco. Il Due Monti cerca di tenere botta in vano qualche ripartenza. La squadra veneta denuncia tutti i propri limiti e la Grifo al 29esimo ne approfitta. Brozzetti calcia dal limite e sorprende con un pallonetto l'estremo difensore avversario. Cercano la soddisfazione personale anche Marinelli e Narcisi ma Paccagnella risponde presente. Un'altra parata prodigiosa la numero 1 Vicentina la compie al 42esimo su una punizione di Natalizi ma sulla corta respinta si scaraventa come un falco Saravalle per il gol del 2-0. Nella ripresa la musica non cambia, Grifo in scioltezza e Due Monti in affanno. All'ottavo blocca Giulia Fiorucci brava ad approfittare di una clamorosa ingenuità della difesa veneta e a calciare il rete a porta sguarnita 3-0. Al quindicesimo ci riprova Natalizi su punizione ma la conclusione scheggia la traversa. Nuovo tentativo al ventesimo anche per Marinelli che dopo un'azione dirompente calcia sul portiere. Con il gol che non arriva la talentuosa attaccante si rende utile negli assist con cui confeziona rispettivamente la quarta rete di Narcisi, la quinta doppietta personale di Giulia Fiorucci, altruismo che viene premiato al ventisettesimo, al quarantatreesimo, al quarantaquattresimo quando Marinelli centra la personale tripletta e rende ancora più largo il divario tra le due formazioni. C'è una squadra che sta crescendo di giornata in giornata. Sicuramente serviva un po' di questo 8-0, ha dato un po' l'autostima a molte che erano poi soprattutto quelle che dovevano fare la differenza in positivo anche davanti alla porta. Quindi credo che questa vittoria sia non solo a parte le reti fatte ma sia stata un'iniezione di fiducia per tutte quante per far capire tutto che possiamo farcela e siamo una squadra che deve assolutamente lottare per vincere questo campionato. Augura una buona giornata. Arrivederci.